Sconfitta in attesa per la Becquery Basket che cede alla distanza sul campo di Ozzano per 84-76. Gara praticamente decisa da un secondo tempo sottotono da parte dei ragazzi di Campanella. Partono meglio i padroni di casa ma Strangelo e Iattoni scappano sul 13-8. Timeout di Campanella e la Becquery reagisce, Dezardo e la tripla di Perin ribaltano tutto sul 13-15. A tre minuti dal termine però ancora equilibrio, schiacciata di Crespi ed ecco il 19 pari. Vangelove segna due liberi, Cena lo imita, Morara accorcia. A fine primo quarto Becquery avanti 21-23. Si riparte, gli ospiti piazzano un più 7 che li fa viaggiare sul 23-32. Si mette in mostra anche Udom con assist in rimbalzo difensivo. Cena si conferma il miglior realizzatore fin qui con 12 punti e il vantaggio va in doppia cifra, 23-34. Guidata da Morara la sinermatica si rifà un po' sotto, i piacentini gestiscono e poi allungano. Si va all'intervallo lungo sul 34-46. Si riparte con Ozzano più precise e tiri liberi, 41-48 a 6-25 dal termine. Tripla di Dezzardo ed è ancora più 10 di vantaggio. La Becquery si conferma però troppo fallosa. Ozzano riduce il gap tra le lunghezze, 51-54. Momento difficile per Piacenza. Pedroni e Iattoni regalano due perle da tre punti, parziale che termina 58-62. Ultimo quarto, teso e combattuto, tripla di Corcelli e sorpasso 66-65. A tre minuti dalla fine è 71 pari. Le triple di Montanare e Chiusolo mandano però i biancorossi al tappeto. Finisce 84-76 con grande rammarico. Prossimo turno sabato prossimo in casa contro Iesi. Prossimo turno sabato prossimo in casa contro Iesi.